ritorno a stm tra l'altro long giusto spero certo long non siamo ancora entrati perché l'area d'ingresso è 40,72 e minimi delle 9 delle 9 e 30 minimi delle 9 e 30 su grafico un minuto con un target in aria 42,80 stop sotto i 40 quindi 39,88 trend al momento quello partito dai minimi del 2024 che ancora resiste nel senso il trend rialziste il recupero che si è innescato dal 17 e 18 di gennaio e congiunge i minimi che abbiamo toccato il 2 e il 5 di febbraio con quella bella candela impulsiva al rialzo ieri giornata discendente ma con volume in calo vediamo appunto se viene a prenderci e se il titolo poi alla forza di andare a superare i top internet al giornata di ieri sopra appunto andremo a testare la trend rialzista che parte dai top ma butta il cuore oltre l'ostacolo su butta il cuore oltre l'ostacolo le cose vorresti fare entro no 40,87 non entro fammi vedere guarda questa questa è la candela guarda che bel rigetto che ha fatto la candela ora le 9 le 10 una bella candela di rigetto facciamo 40 e 77 bene dai aggiornato via abbiamo aggiornato allora long 40,77 stop sotto i 40 39,88 target 42,80 che poi sono i top che abbiamo toccato durante la prima parte del del 2024 quindi questa la nostra operatività odierna che quindi Grazie a tutti